Io sono un poeta, sono figuratevi un poeta professionista, sono un poeta professionista vivente. Vivente è la parola più importante, io sono molto felice di essere vivo, sono felice che voi siete qui vivi, ma soprattutto quando ho iniziato a scrivere tanti anni fa un pensiero che mia sillava era questo, dicevo se le cose che scrivo andranno bene, piaceranno, mi piacerebbe goderne da vivo, cioè non rientrare in quella categoria di poeti, di artisti, di musicisti, di pittori, che a un certo punto muoiono e poi vengono valutati, vengono apprezzati, amati da postumi, una cosa di cattivo gusto pensavo, mi piacerebbe andare avanti da vivo con la mia poesia, no? Non sono sempre stato un poeta professionista, chiaramente, come non sono sempre stato un sex symbol. Avete riso? Perché credete che sia una battuta, non lo è. Io a un certo punto della mia vita sono diventato un sex symbol, ma la cosa strana è che lo sono diventato in età matura, cioè non da giovane, uno pensa che il sex symbol lo diventi da giovane, ed è una bella notizia quella che vi sto dando, perché potete riuscirci anche voi. Magari voi avete pensato, sperato, mi piacerebbe essere un sex symbol, ma ormai ho 30, 35, 40, 45 anni, non ce la posso più fare, no? Io sono qui a dimostrarvi che si può diventare sex symbol anche in età matura e tra l'altro te la godi di più perché sei più saggio o più saggia. Non sono chiaramente sempre stato un sex symbol, anzi, ve l'ho detto, ci sono arrivato abbastanza tardi e invece una gran parte della mia vita, una prima lunga parte della mia vita io l'ho vissuta con delle difficoltà nei confronti degli altri esseri umani, in generale, in particolare con le ragazze, con le donne. Intorno a me succedevano cose, non vi sto solo parlando dell'adolescenza, vi sto parlando anche della post-adolescenza, della post-post-adolescenza, anche della post-post-post-adolescenza, potrei andare avanti così per cinque minuti. Intorno a me succedevano cose, no? I miei amici, i miei conoscenti iniziavano le loro esperienze, io, i primi baci, i primi fidanzamenti, poi sempre di più, sempre di più, e io mi sentivo fuori scala, mi sentivo fuori media, perché sapete c'erano delle medie anche delle statistiche, anche su questi passi importanti dell'esperienza umana, in Italia, ad esempio, il primo bacio, la statistica è 11-13 anni di media, alle medie peraltro, quindi è perfetto. Il primo rapporto sessuale completo, 17 anni, se io vi dicessi quando ho dato il primo bacio, voi non ci credereste, se io vi dicessi quando ho fatto per la prima volta all'amore, vi giuro, non ci credereste, e io comunque non ve lo dico. Però, comunque sia, non era mio agio, se ne sto parlando con il sorriso, ma ho passato dei brutti periodi, dei brutti momenti, anche perché nessuno mi diceva una cosa importantissima che poi ho scoperto, che non ero strano, non ero diverso, non ero malato, semplicemente avevo dei tempi diversi rispetto alla massa. Questo può succedere in questa società, dove tutti fanno una cosa tutti insieme, spesso succede questo, tu ti senti in dovere, ti senti in dovere, invece ognuno di noi ha dei tempi molto personali, ai tempi però nessuno me l'ha detto e quindi non me la sono vissuta bene. Cos'è che mi è venuto in aiuto? Vi chiederete, mi è venuta in aiuto la poesia, torniamo alla poesia. Ho iniziato a scrivere tantissime poesie d'amore, in un momento in cui d'amore non ci capivo un granché, l'ho fatto proprio per cercare di capirci di più, ho scritto da quei tempi all'altro ieri, ho scritto una quantità spaventosa di poesie d'amore, se le metto tutte insieme, solo le poesie d'amore ne viene 4,5 kg, che è tanto vi assicuro. Ho scritto tante poesie d'amore e questo scrivere di una cosa che non capivo ma che cercavo di capire, che cercavo di scoprire, mi è servito. Adesso vi leggerò qualcuna di queste poesie, ho qui dei libri, poesie scritte anche molto tempo fa. La prima cosa che vi voglio leggere parla proprio della difficoltà di comunicazione, in questo caso tra un uomo e una donna, e non è propriamente una poesia, è un dialogo, ho scritto anche molti dialoghi, è un dialogo bucolico, tra tema bucolico, oltre che al fatto di difficoltà di comunicazione, parla quindi di natura, si capisce dal titolo, il titolo è ti piacerebbe andare amore, scusate, è un gioco di parole stupide, io odio i giochi di parole ma era fine anni 90, quindi figuratevi, inizia l'uomo poi c'è la donna, fa così a b a b a b, faccio tutti e due io perché sono da solo. Ti piacerebbe andare amore con me, pungendoci i diti, ti piacerebbe? E a castagne, e a funghi, e a ortiche? Ma tu lo sai che si mangiano le ortiche? Pungendoci i diti, ti piacerebbe? No. Mi disse, no no proprio non mi piacerebbe, per i diti chiesi, no no proprio non mi piacerebbe andarci con te. Stai parlando a me? Sì sì a te. Non ti piaccio? Proprio che non mi interessi. Ma le more? Le more sì, tu no. Le castagne? Tu no, sì le castagne. Le ortiche? Le ortiche anche no, ma comunque non con te. A pesca? No. A caccia? No. Sparare ai topi e alla discarica? Mi trovi basso? No, è che non ti cerco. Quindi non ti trovo. Hai un innamorato in altre lande? Sono singola. Ti piace baciare le ragazze? No, mi piace baciare i ragazzi. Scusa ma allora cosa ci fai dentro la mia poesia? È un tuo problema. Passavo di qui e mi ci hai messa dentro tu. Scusa mi sono sbagliato? Non ti preoccupare. Vabbè, buona passeggiata. Grazie. Un cinema fatti furbo. Ok. Ciao. Ciao. Grazie. Vi ringrazio. Vi ringrazio. Adesso vi leggo invece una poesia d'amore, però non vi leggo una poesia d'amore che parla di quel momento bellissimo che tutti noi, tutti voi, spero, abbiate almeno una volta vissuto, cioè l'inizio, l'inizio del rapporto, della storia, è uno che due giorni, settimane, mesi, questo inizio. E qui parlo della fine, della fine della storia, perché purtroppo le storie d'amore tendono a finire, lo sapete. E questa è una poesia che quindi rientra nella categoria delle poesie di fine rapporto, le PFR, ok? Su una strana, lo so. Su una strana, ne ho scritte tante, di quei 4,5 kg di poesie che ho scritto, 2 kg sono di PFR, non perché io abbia avuto tanti rapporti, quindi tanti fine rapporti, ma ogni volta che c'è un fine rapporto io, diciamo, mi ispiro parecchio. Questa è una classica PFR, si intitola tutto sbagliato. E fu così che ci trovammo nel posto sbagliato al momento giusto, o forse era il posto giusto al momento sbagliato. Con tutta probabilità era tutto sbagliato, il posto ed il momento. Erano sbagliati gli alberi e le strade, era sbagliato il cielo ed il cemento, eri sbagliata tu, ero sbagliato io. Sbagliamo il primo bacio e l'ultimo, il primo appuntamento, il primo orgasmo fu sbagliato e fu sbagliato il primo vaffanculo, fu sbagliato dirti tamo, fu sbagliato dirti ti odio. In realtà ti odio non te lo dissi mai, lo pensai sbagliando. Però sbagliò la luna ad esser piena quella notte, a illuminarti il viso, sbagliarono i tuoi occhi ad esser belli in pianto, sbagliarono gli abbracci, quelli non dati, quelli dati, quelli non chiesti, quelli sperati. E fu così che ci perdemmo. Il sole sorse ad ovest, abbaiarono i cavalli. I tassisti romani offrirono un giro gratis a tutti. Grazie. Sì. Hop. I tassisti romani. È raro che voi incontriate un poeta vivente che riesce a mettere i tassisti romani dentro una poesia d'amore. Io ci sono riuscito. Quando una storia finisce, la naturale conseguenza è che uno abbia una ex fidanzata o un ex fidanzato che gira per il mondo libero. Sono liberi di farlo. È incredibile. Voi ridete, ma tra di voi ci sono degli ex fidanzati e delle ex fidanzate. E siete qui, potete farlo. Ho proprio fatto uno studio a livello legale e anche costituzionale si può fare. Però a me ogni tanto ha dato fastidio questa cosa. Ci ho scritto una poesia tanti anni fa. Una poesia che tra l'altro ha anche a che fare con l'astrofisica. Quindi se c'è qualche astrofisica in sala ne godrà doppiamente. Infatti si intitola Supernova. E fa così. Le ex fidanzate rimangono belle da farti del male. Quando le vedi da farti sognare rimango. Più ex fidanzate tu hai, più ex fidanzate tu incontri. Più belle di prima, più belle non puoi farci nulla. Le incontri alle feste, sui treni, nei campi. Se vai a far vendegna, le incontri. Le incontri tra l'uva, un fazzoletto che tiene i capelli. Raccolgono i grappoli. Se fai il moratore, loro si affacciano alla finestra. Sorridono. Le trovi dovunque, su spiagge, nei boschi, in giardini. Fuggire non serve. Le ex fidanzate le incontri sono belle. Se hanno i capelli biondi, sono più biondi di prima. Se hanno gli occhi azzurri, sono più occhi di allora. Se hanno un corpo, beh, hanno un corpo che vorresti farci le cose. Sapete le cose? Le cose. Se tu poi vai in guerra, vieni quasi sicuramente ferito dai nazisti. Poi finisci in ospedale e l'infermerina francese che ti cura è lei. La tua ex fidanzata. Se tu cammini di notte, di obonno, nella notte tu vedi sfrecciare una bici. Sulla bici c'è un sellino, sul sellino c'è un culo, il culo di lei, la tua ex fidanzata, che sfreccia di notte. Le ex fidanzate rimangono belle, ma le ex fidanzate poi si rifidanzano e ti parlano come se tu fossi lì davanti a loro, come se tu fossi una persona, come se tu fossi. Loro ti parlano e non capiscono che tu non sei più. Tu stai viaggiando nello spazio immenso dove muoiono e dove nascono le stelle, dove il silenzio è tuo amico e la tua prossima donna sarà una supernova con i capelli rossi e un sacco di voglia di fare all'amore. Le ex fidanzate. Adesso vi leggo una poesia d'amore invece felice, una poesia d'amore in cui il poeta esprime tutto l'amore che può nei confronti della persona amata. Si intitola ma meno male che ti amo. E fa così. Stamattina mi sono svegliato e la prima cosa che ho pensato, anzi la seconda, la prima è stata ora devo proprio aprire gli occhi. La seconda è stata pensa tu un mondo come questo, identico a questo sputato, con tutte le sue britture, le sue bellezze, il suo regno animale, vegetale e minerale, con tutto il suo cielo, il suo sole, le sue nuvole, le sue città, i suoi bambini, il suo vento, l'inchiostro, i gatti, le lacrime, i libri, le risate, con tutte le sue guerre, la stupidità, gli dèi, i prati, i mari di ignoranza, le montagne di tristezza, i laghi di paura, i deserti di pazzia, i grattacieli di solitudine, gli ammezzati di stupidità. Pensa tu un mondo come questo, identico, sputato, dove però io non ti amavo. Magari manco ti sapevo. Ecco stamattina dopo che mi sono svegliato, dopo che ho aperto gli occhi, ho pensato, ma meno male che ti amo. E ti confesso, l'ho detto pure ad alta voce, l'ho sussurrato nella solitudine della mia stanza. Poi lo so, a qualcuno potrebbe sembrare cosa di poco conto. Beh, non lo è. Molto bella, lo ammetto. Era molto romantica questa, questa sulla Scala Catalano è un 9.7, che è il record europeo di romanticismo per una poesia. Questa che vi leggo adesso invece non è una poesia romantica, è di nuovo una poesia di fine rapporto. La leggo solamente per un motivo, non solo perché le voglio bene, l'ho scritta tanto tempo fa, è un po' la madre di tutte le PFR, almeno di quelle che ho scritto io ci mancherebbe. Ma soprattutto è una poesia breve e utile, utile nella pratica. Cioè, io ve la regalo in un certo senso, potete usarla se volete lasciare qualcuno, funziona. La potete proprio, e anche imparare la memoria perché è molto breve, la potete dire, dire così a voce. Io vi consiglio di fare così con il dito sinistro, con l'abbraccio dito e dire tu, tu, perché sentite la tu, così non dovete solo sputargli in faccia. Tu, se tu fossi un puffo, tu saresti il puffo stronzo. Se tu fossi un barba papà, tu saresti barba merda. Se tu fossi un supereroe, tu saresti la donna muco. Se tu fossi un pokemon, tu saresti un pokemon qualsiasi, tanto fanno schifo uguale. Ma poi a conti fatti, e concludo, tu sei tu e solamente tu. Gli orpelli lasciamoli ai poeti e alle poetesse da premio letterario. Se tu fossi il sole, cazzo, che freddo. Beh, molto dura, molto dura. Grazie amici. Questa è dura, questa è dura. Siccome il tema di questa giornata è l'amore verso il prossimo, insomma, ecco non potevo finire con una roba del genere. Vi leggo invece una poesia che parla della speranza, davvero la speranza. Parla di una cosa importante, parla del fatto che quando le cose si fanno difficili, ecco una cosa importantissima è stare insieme, stare vicini, un po' come stiamo facendo oggi. Vale per due persone, ma vale anche per tante persone. Il titolo è Teniamoci stretti che c'è vento forte, una metafora meteo, ma io parlo anche, si parla non solo di vento in questo caso chiaramente. Fa così. Teniamoci stretti che c'è vento forte che ci porta via. Teniamoci stretti, facciamoci stretti, bellezza mia. Abbracciamoci con i bracci, aggambiamoci con le gambe, addentiamoci. Annodiamo i nostri capelli e i nostri capelli, incastriamoci le dita dei piedi, diamoci le mani. Guardiamoci senza mai dimenticarci di guardarci dentro gli occhi. C'è un vento così forte che ci porta via. Teniamoci stretti che c'è vento forte, ancoriamoci l'uno all'altro, l'altro all'una, finché non calma. E se non calma perché potrebbe non calmare, vada, potrebbe. Se ci molliamo saremo scaraventati via, lontano. Sarà poi difficile trovarci, forse impossibile. Dimenticheremo le nostre voci, le nostre facce, dimenticheremo ciò che ci piaceva dirci e farci. Dunque, teniamoci stretti che c'è vento forte, bellezza mia. Io ti tengo stretta, mia unica bellezza, che tu mi tieni. Ed io sia maledetto, sia maledetto io, non Dio. Se mollo questa presa di salvezza. Grazie.